Votare è un'occasione, un'opportunità che non va mai sprecata. 17, 18, 19 aprile in tutto il pubblico impiego, nel settore della conoscenza, si vota per eleggere rappresentanze sindacali. È un'occasione di avere rappresentanza, di votare lavoratori, lavoratrici che sono al lavoro con te, che conosci, che ti possono rappresentare, che garantiranno il fatto che si attuino i diritti e i contratti dopo che finalmente abbiamo riconsegnato ai settori pubblici la contrattazione. Scegli le liste della FPCGL, dell'FLCCGL, le liste di lavoratori che oltre a condividere la rappresentanza del luogo del lavoro hanno un'idea della confederazione, delle grandi battaglie, delle battaglie sul lavoro, sull'occupazione, soprattutto quelle sul perimetro pubblico e sui servizi intesi come risposta costituzionale ai cittadini, ma soprattutto partecipa, vota e fai votare perché essere rappresentati è un elemento di qualità del proprio lavoro.